In parità al Palamariotti Spezzino il secondo allenamento congiunto tra la Trading Logistic Spezia e la Zephyr Mulattieri Valdimagra dopo che nella prima occasione a Santo Stefano si erano imposti i valligiani. Ma l'importante è che entrambe le squadre continuano ad apparire in costante progresso lungo il loro avvicinamento al prossimo campionato. Sì perché ormai ci siamo, la Zephyr Mulattieri deve recuperare il confronto già saltato in casa contro l'Admo Lavagna giovedì 7 ottobre ma ormai lo sguardo di tutti è alla prossima Serie B maschile nazionale che scatta a metà mese. Questa volta non vi è riuscita l'accoppiata contro la Trading Spezia, avevate vinto anche Netto una settimana fa, questa volta vi dovete accontentare di un 2 a 2. Ogni tanto può essere positiva, i ragazzi stanno lavorando e quindi vengono da carichi di lavoro, ora questa settimana e la prossima andiamo a scendere quindi ci facciamo trovare pronto per la prima di campionato. Vengono da anche tre giorni di sosta quindi devono riprendere un pochettino il ritmo però l'amalgama c'è. Stasera un allenamento congiunto con la squadra di Santo Stefano che ha l'avvicinamento della prima di campionato che sarà tra circa 15 giorni. Stiamo lavorando duramente in questo periodo sia fisicamente che tecnicamente per arrivare nel migliore dei modi. Speriamo di cominciare bene perché ci giochiamo già i primi tre punti.